Con i problemi economici che ho da quando c'è poi il coronavirus non ne parliamo. È logico che quando vai a fare la spesa, quello che io dovrei mangiare è prevalentemente pesce, ma non lo mangio perché costa l'ira di Dio e dunque no, devo fare con quello che posso fare per forza. È una delle interviste rese in forma anonima contenute nel quinto rapporto su povertà e inclusione sociale appena presentato, frutto della collaborazione tra Osservatorio Sociale e Regionale, Anci Toscana, IRPET, Centro Regionale di Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza, Università di Siena e Caritas Toscana. Nell'anno del Covid un milione di cittadini toscani, quasi uno su tre, hanno ricevuto interventi di sostegno al reddito. Grazie a questo e nonostante la grave congiuntura economica conseguente alla pandemia, la percentuale dei toscani in condizioni di povertà assoluta ha avuto una crescita contenuta, passando dal 3,2 al 3,3%. Il persistere della pandemia ha comunque determinato un peggioramento delle condizioni economiche di tante famiglie. Il 13% dei toscani percepisce la propria condizione come povera. L'8% dei nuclei sostiene di avere poi difficoltà ad arrivare a fine mese. Sostanzialmente dice che gli interventi sono stati approntati soprattutto nel 2020 per quanto riguarda il sostegno al reddito, contributi a un atantum che sono legati sia alle spese alimentari, il supporto al contributo in contaffitti straordinario e tutta una serie di altre misure messe in campo, hanno sostanzialmente contenuto l'esplosione di un fenomeno di dinamica sociale e economica che naturalmente si sta associando e continuerà ad associarsi alla fase pandemia e probabilmente la determinerà anche più lunga rispetto alla conclusione, speriamo, della diffusione dei contagi. Per noi è uno strumento non solo quantitativo d'analisi dei dati ma soprattutto della possibilità di come i nostri servizi si possono riorganizzare ed organizzare sia durante la fase pandemica ma anche per il dopo. Di tutta evidenza e di estrema attualità è la questione del caro Bollette che senza interventi forti e immediati, che sia la regione che i lanci chiedono fortemente, potrà aggravare pesantemente il già complicato quadro economico post pandemia. È un problema dei comuni ma è un problema per le aziende, per i cittadini, per tutti quindi occorre un intervento forte per vedere se si riesce a passare questo periodo e sperando che poi invece i costi diminuiscano perché se no diventa davvero un problema.